Ciao e ben ritrovati su Lusso Sfrenato, il vostro canale preferito. Oggi vi porteremo in un viaggio attraverso le migliori 10 destinazioni di lusso in tutto il mondo. Quindi preparatevi, tenete il passaporto a portata di mano, perché stiamo per partire. Numero 10. Saint-Bartelemy, Caraibi. Il nostro viaggio inizia a Saint-Bartelemy, conosciuta come Saint-Bart's, un paradiso tropicale dove lusso e bellezza naturale si fondono perfettamente. Rilassatevi in una delle ville private del lussuoso resort L'Etoigny, con piscina infinita e vista mozzafiato sull'oceano atlantico. Non perdete il branch di pesce crudo nel suo ristorante Le Gaillac, un'esperienza gastronomica unica. Numero 9. Ibiza, Spagna. Da Saint-Bart's voliamo alla vivace Ibiza. Famosa per le sue feste in spiaggia, offre anche lusso ed esclusività. L'hotel Ushuaia è noto per le sue feste in piscina ed offre suite di lusso con vista sul mare. Fate esperienza di Subly Motion, un ristorante con uno show di cucina molecolare, guidato dallo chef stellato Michelin, Paco Ronsero. Numero 8. Dubai, Emirati Arabi Uniti. Ora raggiungiamo Dubai, l'epitome del lusso moderno. L'hotel Burj Al Arab, noto come l'hotel più lussuoso del mondo, è famoso per il suo servizio di Maggiordomo 24 ore su 24 e le sue suite opulente. Non dimenticate di prenotare un tavolo al ristorante subacqueo Al Mahara per un'esperienza culinaria ineguagliabile. Se il video è di tuo gradimento, non dimenticare di iscriverti al canale ed attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video di lusso sfrenato. Numero 7. St. Moritz, Svizzera. La prossima tappa è St. Moritz, il rifugio invernale dei ricchi e famosi. Il Bedrath Place Hotel, affacciato sul lago di St. Moritz, offre suite di lusso con vista sulle Alpi. Gustate la cucina raffinata al ristorante Iniv by Andreas Caminada, premiato con due stelle Michelin. Numero 6. Tokyo, Giappone. Voliamo ora a Tokyo, la metropoli che offre un mix di tradizione e futurismo. La Man Tokyo, situato nel quartiere Otemachi, offre una vista panoramica sulla città. Per gli amanti del sushi, il ristorante Esuki Yabashi Giro, premiato con tre stelle Michelin, offre una delle migliori esperienze di sushi al mondo. Numero 5. Parigi, Francia. Da Tokyo, vi portiamo alla città dell'amore, Parigi. L'hotel Plaza Athenée, conosciuto per la sua vista sulla Torre Eiffel, è un'icona del lusso parigino. Il ristorante Alain Ducasse, al Plaza Athenée, con le sue tre stelle Michelin, offre un'esperienza culinaria di alta classe. Numero 4. Santorini, Grecia. La prossima tappa è la pittoresca Santorini. Il Canave Soia Luxury Sweets offre ville eleganti con piscine private e viste spettacolari sul mare Geo. Non perdete l'opportunità di assaporare i sapori autentici della cucina greca presso il ristorante Selene, un'istituzione sull'isola da oltre 30 anni. Numero 3. Bali, Indonesia. Da Santorini ci spostiamo a Bali, un paradiso tropicale dove il lusso incontra la natura. L'Engine Gardens of Bali offre ville private con piscine a sfioro affacciate sulla giungla. Il ristorante Locavor, famoso per i suoi ingredienti locali, è uno dei migliori ristoranti d'Asia, secondo la classifica di Asia's 50 Best Restaurants. Numero 2. New York, Stati Uniti. La nostra penultima destinazione è la città che non dorme mai, New York. Il De Carlyle è uno dei migliori hotel della città, conosciuto per le sue viste sulla skyline di Manhattan. L'esperienza culinaria non può prescindere da una vista sull'Ileven Madison Park. Ristorante con tre stelle Michelin è uno dei migliori al mondo. Numero 1. Monaco, Principato di Monaco. Concludiamo il nostro tour a Monaco, simbolo dell'opulenza europea. L'Hotel de Paris, a due passi dal famoso Casinò di Monte Carlo, offre suite di lusso con vista panoramica sul porto. La cena presso il Louis XV Alain Ducasse con tre stelle Michelin è un'esperienza indimenticabile, con piatti creati dal famoso chef Alain Ducasse. Quale tra queste destinazioni è la tua preferita? Commenta qui sotto! Se ti sei goduto il tour, non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanella e rimanere sempre aggiornato sui prossimi contenuti di Lusso Sfrenato. Ciao!